Peccato che lo sciacallo è messo come terza arma però Eh va bene Va bene ma dai ci accontentiamo Va bene così Eh va bene così Eh adesso servirebbe il PSD flopper Eh vedi che il PSD serviva Eh vabbè La cosa bella è che non avremo più slot perk No oppure mi butto a terra però perdo lo sciacallo quindi è inutile Eh perdi anche tutti gli altri perk Eh perdi anche gli altri perk Non so se c'è comunque qualche altro modo eh Potrebbe Magari in realtà sparando alle bottiglie si sbloccano slot perk O mi sei di dubbio Di bottiglie comunque io ne ho visti solamente due Dovremmo cercare la terza in ogni caso Ma cioè è più probabile l'ipotesi della canzone Eh appunto potrei mettere anche la musica a zero e vedere Non lo so Oppure la Vediamo se troviamo la terza la proviamo però Oppure usi lo sciacallo old school senza PHD Esatto Eh no su Call of Dead non c'era no? Certo che c'era le PHD Ah c'era? Sì sì È stato introdotto con ascensione il PHD Con le ascensioni Allora adesso faccio un bel Raggruppo un bel po' di zombie e poi tiro Un colpo di sciacallo stando attento a non farmi colpire Dallo sciacallo Dallo sciacallo Perché il casino C'è un motivo se si chiama sciacallo? È cattiva Sciacallo Scavengers Scavenger anzi non scavengers Eh ma poi non mi fotti di zombie No vabbè doppi punti Eh vabbè tanto con l'HG40 sto sparando Però mi ha dato doppi punti quindi GG Vediamo Vediamo Vedi vedi E boom Oddio non c'è più niente Bello bello Loll Guarda l'unica cosa che mancava è il Bowie Veramente Che comunque è un'arma d'accoltellamento più power Non è che non l'abbiamo vista in realtà Ma dai credo che l'avrebbe vista Guarda io penso che abbiamo aperto C'è la calamita Abbiamo aperto C'è la calamita Tipo nella prima stanza Oh guarda c'è il bovine Tra le porte Accro ste mondo Esatto Eh no Poi è abbastanza visibile come cose Abbiamo aperto tutta la mappa Quindi credo proprio di no Se vi state chiedendo Ma ci sarà un endgame Sal ho letto E l'endgame non c'è Quindi non c'è proprio l'endgame L'endgame sarà la nostra morte Eh sì Perché Come ho già detto Qualche episodio fa Questa è una mappa che già è uscita Cioè era già uscita Parecchio tempo fa Senza però la mod di Black Ops 3 Per così dire Insomma con Queste armi che ci ho equipaggiate Ecco Magari forse lo sciacallo ce l'ha già Eh non lo so E quindi oggi La riproponiamo Riproponiamo così Con la mod di Black Ops 3 In realtà non l'avevamo mai giocata Sì effettivamente sì Non l'avevamo mai giocata Quindi Comunque vedo che ti stai Stai appassionando Ecco vedi parla anche lui di buchi Eh vabbè Vedi se non è un buco questo Cosa deve accendere? Cos'è per voi un buco? Buco rosso È rosso quindi Normalmente è viola Meglio che sto zitto allora È viola no? Cioè non potenziate il viola Poi diventa rosso Qual è il problema? Ripeto Meglio che sto zitto What is the problem? Non capisco Io capisco invece Ma il trasformato Se gli stai vicino Ti mena eh? Ah ti mena anche a te? Lol È un po' baggato Un po' stronzo Più che altro Vabbè comunque già tanto Se c'è il trasformato Vediamo se mi picchi a me Hai morto poveretto Ah no poveretto il cazzo Mi ha menato Un poveretto Se l'hai cercata Me l'hai cercata Un poveretto Andiamo 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 a trasformare Andiamo a trasformare I trasformati Ti 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 Metto le clamor qua Tac Tac Clamor Tac 40 Comunque l'effetto Del cavo inerte E gli altri E le altre abilità Veramente Fatto bene Veramente Veramente Abbiamo appena finito di dire Che il trasformato è baggato Ma va bene Ah o No vabbè ma sto parlando I cavo inerte Lol La sera cambiamo idea Da un secondo all'altro Ma più che altro Io cambio idea Quindi è tutto molto normale Va tranquillo E a parte i bug È bello Va bene E beh cazzo Che così va meglio Ok Un secondo fa È però un po' baggato Però l'ho fatto veramente bene Ma non lo so perché Non ho detto Ti giuro non lo so Ma sai perché l'ho detto Perché ho sparato con cavo inerte Ho visto che lo zombie è morto E proprio era uguale Il modo in cui è morto No a Black Ops 3 Ho detto cazzo è fatto bene No però Effettivamente non ci pensavo Che fino a un secondo fa Avevamo detto Ragazzi io non sono razzista Però i neri Sono veramente sulle palle C'è il concetto era quello Ok Ok Fa tutto molto normale Annamore Ok Non lo scudo Non so quando Anch'io non ce l'ho Oh c'è una bomba Prendiamola Tutto solo L'ho fatto Vado a prendere la bomba Oh Aspetta non la prendo Perché queste cose Ti ricordi Mirko un po' di tempo fa No Ragazzi Maxemo lo prendo Maxemo Ah si vabbè Cioè che ancora prima È già più normale Ma è già più normale Quella cosa lì Tranquillo Ah ma qui si è aperta Sta porta Ma non era chiusa Non è che si è aperta L'ho aperta Ah si poteva aprire La porta della stamina Miracolo Oh quando ci sono andato io Non si poteva aprire Vabbè che è un po' Buggato il premio La cosa della Della scritta un po' Buggata Ma si è aperta Infatti Oh mio dio si è aperta Abbiamo bloccato la porta Miracolo Si È un easter egg Probabile Sicuramente Sai cosa mancherebbe Cosa manca Il Bowie A parte il Bowie Il fatto che Quando si rompe lo scudo Ti fa il rumorino Eh si Per questo non ce ne stiamo manco accorgendo Quando si rompe Infatti Un po' un problemino questo Da fixare Però Già è tanto Ora Tra 20 secondi Però lo scudo È fatto bene Esatto Il bene è quello Però Cazzo però lo scudo L'hanno fatto bene Mamma mia Uguale Anzi meglio Guarda Proprio Che figata Oddio mi stavano Chiudendo male Che figata Ho visto un po' la scena Ma sono gli ottimi? Boh Si Adesso si sente bene La musichetta del cambio round Ok Quindi com'è lo scudo? È spettacolare Assurdo Oh ci sono i ragni Ma sono fatti No Ok basta Questo brutti sempre Allora Fado a potenziare Lo sciagallo Ok Tanto con i punti Non credo Che possa ripotenziare Due volte Proviamo Ce l'ho ai punti? Si ce l'ho ai punti Quindi proviamo Però non credo Andiamo 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 a potenziare No 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 C'è samimedica Di tutte le altre armi verde Così Non si può ripotenziare Si perché Comunque credo che Visto che stessi andato a potenziare Siano spawnati tutti da me Sì ma infatti io ce n'ho uno tipo Eh io ne ho 7000 Allora voglio vedere Se si può comprare Se si può comprare La piecchia di flopper Anche senza lo slot Vediamo Magari se compri tutte le fide Ti danno tutti gli slot Cazzo ne so Vorrei ma non credo Vorrei ma non credo No non si può Non si può Ma vorrei ma non credo E' tipo il motto di un ateo Ma perché Ma vuoi ammazzare qualche raro E' stato andato a provare le cose Eh ho capito Oh quanti ne hai uccisi a sto round Eh ti piace uccidere No no Tu quanti ne hai uccisi Ah io ho 3 tipo Ma fa' un culo Ma sai più di 20 mi sa CG Comunque Abbiamo completato tutte le fide Abbiamo Io ho 2 wonder weapon Che cosa da nulla Io ho trearmi al muro Eh trearmi al muro E basta Basta Il recap rapido Esatto No sembra tipo una diretta No sai di fare il recap Quando arriva Arrivano persone nuove Cosa da fare Mi ha abitudini con il live streaming Ormai ragazzi Ma allora Ma che Non ho più le grade lui Se l'hanno consumata Ma che cazzo Ah ok Quando le finisci Ti ritrovo le grade normali Ah lol Beh serio Si Ho le grade normali Ah bello Quindi c'hai 6 granate 8 granate Ma che che In totale Ma che che No ma ti spiego Cioè Allora Cos'è ambigua Mi escono comunque però I bonus del Widow Swine Si È presente E ogni volta che li vedo Mi da una granata normale Ah male No normale Ok le clamor fanno danno Se spodono vicino Non spariamo più clamor Ah male Eh si Normale Divertente Si Ho trasformato che è un po' confuso Vedo il simbolino tipo In giro È confuso No no è fermo Non è in giro È confermo Ma dai Che è sto fermo Che se la fa con il mio trasformato È con Fermo Di male in peggio Basta Non dico altro Al male non c'è mai peggio Al male non c'è mai peggio Questa sempre Me la scrivo Guarda Poi farò un libro Ci scrivo queste cose Tatuatela Tipo sull'avambraccio Tipo sul naso Ma non ha senso Perché tiro granate normale Vorrei provare anch'io Però poi Effettivamente non so se conviene Perché? È perché poi per quelle del Widow Swine Ah Eh beh Però Cioè quando mi si avvicinano gli zombie Ha comunque l'effetto Di Widow Swine Cioè Ah ok Cioè Non ti appare nell'HUD In realtà È ma quando io tiro granate Sono granate normali Ok Sì 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 Ma nell'HUD sono normali Oppure sono bianche? Sìììì also Va bene Dai Sorvoliamo Tanto questa mappa è gratuita Quindi va bene Però il Widow Swine è fatto veramente bene N'è fatto bene Però i perk sono fatti bene Un fermo No vabbè ci sta in realtà Diciamo che non è un bug Proprio che ti incazzi Esatto Si 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 sti cazzi Cioè puoi sorvolare Insieme a te io prendo il volo C'è il chino nato proprio Ma sbaglio o il per due dura un fottio Non l'ho notato sinceramente È durato È durato È durato E' durato Qui sta andando tutto Ok Finito round Si Non è durato Eh male Non è nulla la nata tornava per la nata per tutto niente io le granate normali niente lui è normale normal power e male o anche finite perché ma al muro ci sono le granate pubblico comprare grandi guido swain al muro immagini non sarebbe tanto normale come cosa però no ma perché in realtà ti ripeto io compro le granate normali l'unica cosa è che quando mi si avvicinano i zombie si si ti fa l'effetto guido swain ma anche riprendendo fare un colpo no vabbè ora non più ma anche tipo riprendendole dagli zombie come bonus sono normali giusto si si era quello il concetto trovo che ora le ho finite quindi niente ora niente a casa eh eh si come back home alright inizia quasi a faticare mio hg 40 ti dirò ma è potenziato due volte non è potenziato ah non è potenziato ok e beh allora credo che fatica cazzo infatti ogni tanto devo tirare fuori il kn ma c'è round 30 praticamente un colpo eccolo si è morto cuscino è crashato bene cuscino non c'è più raga posso mettere in pausa o non posso mettere in pausa perchè è ancora in partita tecnicamente vediamo se riesco a rianimarlo e few moments later che si è successo ma non sono crashato io ah sei crashato tu eh ok eh mi è uscita scritta sal 24 ore offline sia su Skype ah ok allora sono crashato io eh perchè io ero connesso eh no eh a me è apparso l'errore tipo cioè non l'errore sei andato a terra e poi sei morto definitivamente eh no ma io dopo che ho visto che e adesso sal 24 ore offline sono andato a vedere su Skype e anche qui ah e allora sì ma purtroppo la mia connessione non è che sia infatti la sto cambiando per adesso cioè dovrei cambiare a momenti ti ho sentito dire sto cambiando connessione una settantina di volte forse guarda ci sono stati degli aggiornamenti lasciamo perdere perché lasciamo perdere guarda forse è meglio è sempre con la stessa eh ma non è non è per me io magari guarda no no lo so ci sono problemi ovunque qua in sto posto qua lasciamo perdere le volte che mi ha detto sto cambiando comunque ci sono gli aggiornamenti e dovrei mettere euro ecco vabbè giusto così il settimo spero non lo so che sia una buona spero che vada abbastanza perché se no è un problema ok comunque niente salutiamo perché so per fare i saluti io però ok ciao ragazzi e questo ciao ragazzi e come al solito è crashato tutto cioè vabbè niente e quindi ragazzi come al solito vi do sempre lascerò un piacere tanto abbiamo fatto vedere praticamente tutto sì no alla fine sì dovevamo morire normalmente siamo morti per crash cioè non siamo morti è finita in flawless è finita in flawless è vero sì non siamo mai morti esatto esatto resteremo sempre col dubbio se si possono avere tutti perco o no però vabbè pace a me non lo so e vabbè e vabbè niente ragazzi noi ci vediamo al prossimo video un saluto ciao ciao e quindi ci vediamo al prossimo video bella